Ben a tutti ragazzi, ben ritrovati su Conqueros Braid Siamo qui oggi con una spedizione di livello 3 in cui bestemmeremo tutti i santi In compagnia di Mattio Ciao Questa spedizione è una delle più brutte E consiste nel salvare Due gruppi di farmers, di contadini Cittadini in modo tale da In modo tale da avere i nostri benissimi sondini Come ho detto, questa è la modalità più brutta che c'è È una modalità PvE È una modalità PvE, esattamente E porca puttana, mi hanno stunnato Perché vuole un po' di cure E ad ogni tot ondate Perché ci sono 5 ondate Ad ogni ondate ci sarà un corpo di artiglieria Che minerà su di noi Ma non su tutti noi Ma su qualcuno Ci lo dirà stesso il gioco Almeno su questo il gioco ci aiuta E niente, fatte le giuste premesse Sta modalità è una merda in poca parola No! Chi è che è andato vicino? Yeah! Scalli, scallino Ma indacca una puttana, una mamita Che in gergo significa Grazie di aver attivato il trigger L'hanno messo qui Su un lato destro Eh ma attaccano qua dove siamo noi L'avremo andata Eh sì, ma ti state già tutti quanti Per quello Mi tengo già pronto Siamo senza scudi C'è la gavanei Acuco un po' Su noi e il vostro scudo Sì ma La mancia Che fa in questo modo? Che cazzo fai? Come m'ho andata a due? Palle Perciò non uscere come Sì Finché è uno Ci penso io Ha messo i scudi dove stanno già i tuoi Cazzo Ah da questo no? E occhio O a te geno Eh lo so, lo so No, all'artilleria Ah Non me ne ho proprio accorto Vabbè Ah Non pensi pochi Mena ammigata Mena antilleria Eh sì Era per me Mena antilleria Cazzo Era per te Era per te Cazzo non ho visto Che sono sti samurai oh? Eh Arrivano sempre Quello L'eroe nemico Ma non si possono avere sul gioco Dico Eh Non credo Comunque cambio unità eh Prendo Siamo qui per aiutarti Sì Cazzo Madonna Addio Comunque il mag è qualcosa di Yorkland A me lagga tantissimo Quando attacchi No nelle partite pvp Qua pv non mai A me sì Pura a me tu è qua Cioè a me lagga qua Ma non C'è tipo Un secondo Ma un secondo Ma manco un secondo Cazzo Ho distrutto un'artiglieria Comun'artiglieria Yes Ah ci sta Eh sì Spona Quella di sparo Oh Ma che cazzo L'ho appena distrutta Ho sparato a fianco Ma tu ti incuro All'angoletto Ma tu l'ho boomizzato No No Altre pavalleria No No Oh Sì Che paventano Quanta corazza c'erano questi Lo s'amugati Eh sì Sì E' rimasta una cavalleria laggiù Dove? Ah proprio ho una sola No è una divisione Ci andiamo? Sì Faccio rifornire un attimo i arcieri Viene qua Mi sono complitto Bene ragazzi la missione è terminata con una bella vittoria tutto sommato E niente Grazie per aver visto questo video E noi ci vediamo su un prossimo Ciao ragazzi Grazie a tutti